Presentato dalla Fondazione Carifano il nuovo bando di crowdfunding dal valore di 100 mila euro da destinare a 10 progetti che abbiano in oggetto gli ambiti di interesse previsti dalla Fondazione. Tra questi arte, attività e beni culturali, educazione, istruzione e formazione, salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, famiglia e valori connessi e assistenza agli anziani, volontariato, filantropia e beneficenza, protezione e qualità ambientale. L'ambito territoriale nel quale devono incidere i progetti presentati è quello ricompreso in questi dieci comuni. Riteniamo che sia un'iniziativa importante che, vista le esperienze degli anni precedenti, debba essere replicata per stimolare sempre di più questo nostro preziosissimo mondo del terzo settore per impostare iniziative e promuovere iniziative anche innovative in tutti gli ambiti in cui opera la Fondazione. Dopo l'esperienza del 2021, quando la Fondazione ha messo a disposizione 50 mila euro, sono stati raccolti oltre 100 mila euro dal territorio, quindi per un totale di oltre 150 mila euro. E lo stesso rapporto di un euro investito dalla Fondazione, che ne promuove e ne raccoglie altri due dal territorio, si è verificato e si è riplicato anche nel corso del 2022. Il mondo del terzo settore, che porta avanti iniziative in ambito sociale, in ambito culturale, risponde alla sua chiamata risponde il territorio, risponde in modo significativo. E questo è una garanzia anche per la Fondazione che questi progetti innovativi, che hanno anche il pregio di avvicinare il mondo giovanile, perché il progetto deve essere reso leggibile dalla comunità, deve essere proposto su una piattaforma di crowdfunding, quindi ci avventuriamo, uso questo termine perché ancora tale viene ritenuta l'avventura sul digitale, deve necessariamente coinvolgere le giovani generazioni che sono più avvezze a questo tipo di mondo. I progetti dovranno essere presentati alla Fondazione entro il 20 di giugno in via Montevecchio 114. Per i progetti che supereranno il vaglio della Commissione istituita in Fondazione, supereranno questo vaglio, avranno un momento di formazione che è abbastanza lungo perché andrà da giugno e settembre, sempre attraverso i nostri partner che sono la Rete del Dono e il Centro Servizi del Volontariato, dopodiché sulla piattaforma verranno messi a disposizione di chi vorrà contribuire per finanziare questi progetti dal 2 di ottobre quest'anno fino al 31 gennaio 2024, perché quest'anno aggiungiamo un altro mese.